È inaccettabile che per le vie di Trento persone che delinquono, che vengono arrestate grazie al lavoro delle forze di polizia, poi più volte vengono rilasciate dopo più furti e più reati. Qui c'è un problema di certezza della pena, ci sono le leggi sbagliate fatte da questo governo, grazie anche al voto del Partito Autonomista, che hanno depenalizzato alcuni reati e c'è una scarsa attenzione anche da parte della magistratura perché praticamente il lavoro delle forze dell'ordine viene svilito di fronte a fatti di questo genere.